L'eccellenza scalda i motori in vista del nono turno di campionato. Nel girone A impegni ostici per le due capolista. Il Molfetta riceverà al Poli il Polimnia, mentre per l'Unione Calcio Biceglie è in più gramma la difficile trasferta sul campo della sorpresa Real City. Confida in un passo falso delle prime della classe il Biceglie, che dal canto suo non può più commettere errori. Per i nerazzurri stellati sfida interna contro il Foggio in Cedit. Riflettori accesi anche su Corato Molfetta Sportiva e Canosa Virtus Mola. Nel raggruppamento B invece il derby Tarantino Manduria-Massafra potrebbe dire tanto rispetto alle ambizioni di entrambe. In palio punti pesanti in chiave Vetta in attesa del posticipo di lunedì tra Matino e la capolista Ugento. In chiave Salvezza a caccia di riscatto Mesagno-Stuni per entrambe sfide esterne sui campi rispettivamente di Otranto e Brillacampi. E un turno spezzatino alle ore 11 in campo Borgo Rosso-Molfetta-San Marco e Spinazzola-San Severo alle 15.30, Biceglie-Foggio in Cedit alle 19, Novo di Maglie e Molfetta-Polimnia.